Gentili telespettatori, buona giornata. Una lite social tra Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, e Maria Elena Boschi di quel partitello dell'1,8%, Italia Viva di Renzi. Ma che cosa è successo? La deputata di Italia Viva dice a Giorgia Meloni, bene la solidarietà femminile sul piano personale, ma sul piano politico io sono orgogliosamente dalla parte opposta alla tua, e Giorgia Meloni è orgogliosamente dalla parte opposta. Beh, ci sono visioni politiche e atteggiamenti assolutamente opposti. È uno scontro che lo avevano già fatto sulle lacrime della ministra Bellanova, quando la leader di Fratelli d'Italia aveva parlato di un colpo di teatro, mentre la deputata di Italia Viva difendeva la commozione della ministra uscente. Poi anche sulle unioni civili si era acceso il confronto. Meloni diceva, la Boschi dice cose senza senso, è giusto che i sindaci facciano obiezioni di coscienza, diceva Giorgia Meloni, lanciando strali all'indirizzo di Maria Elena Boschi. E così Boschi, ospite all'aria che tira sulla sette, quando Mirta Merlino gli aveva chiesto se le piacerebbe che Meloni diventasse la prima donna premier, ha risposto con un secco no, dicendo preferisco che non ci sia un presidente del consiglio sovranista che guida un partito che ci avrebbe negato i fondi del recovery fund. Un partito che ci avrebbe negato i fondi del recovery fund. Questa è pura fantasia, questo che sta dicendo non ha nessun senso. Comunque, poi aggiunge, non chiedo sconti e non faccio sconti come donna, credo che sia giusto che uomini e donne competono sulla stessa linea. Poi cosa c'entra quello che sta dicendo non lo so. Poi un'esternazione poi che non è piaciuta alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e dice la sinistra ha paura di vedermi presidente del consiglio. Infatti Giorgia Meloni scrive la sinistra ha paura di vedermi presidente del consiglio un'ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta. E così Maria Elena Boschi risponde subito a Giorgia Meloni dicendo e di cosa ti stupisci Giorgia? Poi Giorgia chiama la onorevole Giorgia, insomma, non è tua sorella che la chiami Giorgia. E di cosa ti stupisci Giorgia? Lo ripeto a voce alta. Non vorrò mai una premier come te. Sovranista, anti-europeista, contro Draghi. Bene la solidarietà femminile sul piano personale ma sul piano politico io sono orgogliosamente dalla parte opposta alla tua. Una premier anti-europeista? Come? Giorgia Meloni che è presidente dei conservatori europei come fa ad essere anti-europeista. Bisognerebbe spiegare a Maria Elena Boschi perché Giorgia Meloni l'ha spiegato parecchie volte ma capisco che non è un tema facile. Giorgia Meloni dice io non sono anti-europeista, io sono per un'Europa unita ma diversa da quella attuale. Ecco, non vuol dire essere anti-europeisti, è come uno che dice io sto facendo l'università, finirò l'università però non condivido com'è l'università oggi, non mi piace com'è l'università oggi. Andrebbe comunque rivista, andrebbe gestita diversamente. Ecco, se uno dice io faccio l'università ma credo che dovrebbe essere diversa, non vuol dire che essere anti-università. Ecco, spiegatelo a Maria Elena Boschi perché Giorgia Meloni l'ha spiegato parecchie volte, Giorgia Meloni ha detto io non sono anti-europeista, io sono presidente di un partito europeo ma vorrei un'Europa diversa, sempre unita ma diversa. Anti-europeista vuol dire non voglio l'Europa unita, ma come può dire non voglio l'Europa unita Giorgia Meloni che non l'ha mai detto e che è presidente di un partito europeo? Quindi nella sua frase sovranista anti-europeista contro Draghi l'anti-europeista lo devi togliere. Contro Draghi non è vero che è contro Draghi. Spiegate anche questo a Maria Elena Boschi. Giorgia Meloni non è contro Draghi. Giorgia Meloni è all'opposizione, ha scelto di non entrare al governo perché non lo riconosce come un governo eletto. Giorgia Meloni ha sempre pensato che si poteva votare quando Mattarella disse non si può votare, si poteva votare, in tutto il mondo hanno votato dove dove c'era la possibilità. Pertanto Giorgia Meloni non riconosce questo governo come un governo eletto, come un governo di investitura popolare. Pertanto non è contro Draghi. Lei è andata proprio oggi a parlare con Draghi. Draghi ascolta quello che dice Giorgia Meloni e Giorgia Meloni non ha negato la conferma che Draghi ha fatto molte cose positive, su alcune cose lo critica, ma questo è il ruolo dell'opposizione. Questo è il compito dell'opposizione Maria Elena Boschi. Non vuol dire essere contro Draghi. Il compito dell'opposizione è criticare quello che fa il governo. Quindi anche questa viene smontata. Sovranista. E che cos'è? Un'offesa dire sovranista. Insomma, meglio essere sovranista che di sinistra. Su questo non c'è nessuna ombra di dubbio nella mia opinione. Però è legittimo dire non vorrò mai una premier come te. È sovranista. è legittimo. Vogliamo paragonare politicamente Giorgia Meloni con Maria Elena Boschi? Ma è uno scherzo? Dai, su, non scherziamo. Non possiamo paragonare le due politiche. Giorgia Meloni e Maria Elena Boschi. Giorgia Meloni a capo di un grande partito che ha portato dall'1,6%, 1,9% al 20%. Maria Elena Boschi è una politica di un partitello fallimentare che andrebbe chiuso. Partitelli all'1,8% non hanno senso di esistere. Pertanto ci sono anche dei distinguo da fare abbastanza importanti su questo tema. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e buona giornata.